PANI ALA BIRRA Non c'è neanche bisogno di impastare. Allora, farina, lievito secco, un cucchiaino di lievito secco, sale, lo metto un po' più lontano. Nel frattempo mescolo tutto quanto. E ora la parte liquida. La parte liquida è la birra, ovviamente. Ho scelto della birra scura. Darà un bel sapore intenso a questo pane. Però se volete un sapore meno intenso, potete usare tranquillamente una birra chiara, senza alcun problema. Scrovescio tutta la birra. E ora faccio assorbire tutto. Vedete? Con un semplice mestolino di legno. L'unica, attenzione, da fare è di raccogliere tutta la farina che c'è intorno. Non è che bisogna fare niente di più di questo. Ok. L'impasto è pronto. Bene. Ora, si pellicola, si fanno un po' di buchetti e si mette da una parte. Se lo fate d'inverno, o comunque quando le temperature non sono poi così alte dentro la casa, minimo 12 ore, tra le 12, ma anche 20 ore tranquillamente. D'estate dovete metterlo in un posto fresco, oppure, per esempio, mettere almeno una parte, la prima parte della levitazione, metterlo in frigorifero per qualche ora e poi dopo lasciarlo devitare tranquillamente. Noi ci vediamo, minimo, fra 12 ore. Ecco qua, siamo arrivati a formarlo. Prima cosa da fare, portiamolo verso il centro. È difficile in questo momento da manipolare, quindi piano piano lo stacchiamo dalle pareti e lo portiamo verso il centro. Ok. Perfetto. Metto un po' di farina sul banco. Questa vi serve, eh. Questa vi serve proprio. E rovescio l'impasto sopra la farina. Prima di cominciare a lavorare l'impasto, vi faccio vedere. Serve una pentola che possa andare in forno, in questo caso è di ghisa, ma usate quella che potete avere, foderata con della carta forno. Ok? Molto semplice. Prendo un po' di farina e piano piano comincio a dare la forma all'impasto. E' un impasto molto morbido, però, vedete, non è assolutamente difficile da lavorare. Proprio basta tenersi le mani infarinate. Guardate se è bellino, eh, proprio bellino. Un altro po' di farina. E metto ora questo impasto nella pentola, foderata con la carta forno. Ora, ma proprio si lascia lì, tranquilla, a lievitare per almeno due ore e mezzo, se non tre ore. Suggerimento, forno, quindi forno spento. Ci mettete un bel pentolino di acqua bollente, lasciate così aperto e fate lievitare. Ci vediamo fra due ore e mezzo, tre ore, però guardate com'è all'inizio. Eccolo qua. Ve lo faccio vedere come deve diventare, eh. Ci pratico sopra un taglio. Due tagli. Vi dico la verità, con la lametta questo è un lavoro che si riesce a fare in modo chirurgico. Con il coltello è un po' più difficoltoso, ma insomma. Ok. Allora. Io, su queste cose precise. Si va in forno. Temperatura 220 gradi, forno statico. Primi 20 minuti, coperto. Poi si scoperchia e si lascia proseguire la cottura per 30 minuti. E dopo si sforma e si assaggia. A dopo. Eccolo qui. Abbiamo sformato. L'abbiamo messo sopra così, così tutta la parte, l'umidità evapora. Ora è completamente freddo. Allora vi dico le caratteristiche di questo pane. Le caratteristiche di questo pane sono l'estrema morbidezza, il profumo incredibile, e la durata. Questo pane, vabbè, in effetti dobbiamo dire la verità che più di una settimana non ci siamo riusciti a provare. Però dopo 3-4 giorni è praticamente come appena sfornato. È veramente buonissimo. È morbido. Guardate il bellino. Guardate, guardate quanto è morbido. La crosta non è una crosta dura. Non è una crosta dura. Guardate. Poi, ora, voi guardate. State guardando? Io mangio. Buono, non c'è tante chiacchiere a dire buono, ma vi dico questo. Se avete la pazienza ad aspettare un giorno, il giorno dopo diventa ancora più buono. Un po' come il pane che si fa con la pasta madre, no? Che appena fatto c'è un po' di... Sembra un po' troppo acido. In questo caso qui la birra un pochino si sente di più. Il giorno dopo diventa la fine del mondo. Ma anche ora... Ma veramente è buonissimo a mangiarsi così. E quindi io per voi continuo a mangiarlo. Grazie. Grazie.